Ecco il traguardo e la vincitrice della Oden! Quando I met you in the summer con l'azione del campione Ascoltando il traguardo e adesso facciamo una prova con il pubblico di Cagliari il pubblico sulle mani Forza Cagliari forza 20, 1, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1 Ricordiamo che è proprio una rappresentante della capitania di Porto Adesso è il primo giro, tutto fatto fatto Forza Cagliari, un applauso! Nazionale e internazionale Ricordiamo che l'aereo è la vice-tampionessa del mondo vice-tampionessa europea campionessa europea squadra insieme a Debora Tonioni che è qui in gara Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Vieni con un giugno che sta terminando il primo giro Forza Cagliari con applauso! Incontriamo questi atleti che sono all'inizio del secondo giro di questo 10 km del Sole Rimer Don Challenge Ricordiamo tre giri su questo bellissimo percorso sul lungomare di Cagliari Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tutti e tre all'arrivo, finiti i 10 km di questa sola viva data Italia e il traguardo in questo istante vedrà il numero 36 Dalle 178, congratulazioni 54, siamo al traguardo Congratulazioni, siamo all'arrivo Eccoci al traguardo Mani al cielo, siamo al traguardo Vi preghiamo di non passeggiare sul percorso, grazie Vi preghiamo di stare al di là delle transene Grazie per la collaborazione Ci sono ancora gli atleti in gara Che stanno finendo le proprie fatiche Gli ultimi metri di questa 10 km 8 marzo e questa della donna È un'andata stupenda qui a Taglia Grazie a tutti Grazie a tutti